Chi va a donare ad agosto parte con più memoria Tutti gli iscritti all'Avis di Poggia che doneranno nel mese di agosto potranno ritirare una pendrive da 8 giga Se sei donna e doni per la seconda volta o se uomo e doni per la terza riceverà i due biglietti per la città del cinema mentre gli uomini che effettueranno la quarta donazione e le donne che effettueranno la terza donazione riceveranno una power bank da 10.000 mAh Vieni a donare! La vita non può aspettare!